Come trasformare una stola in una mantellina? Questa è una piccola idea soprattutto per chi odia le stole che scivolano quindi prendete la stola e dividetela in due, questo è il primo passaggio Ripiegatela ancora una volta in due della stessa lunghezza Eccola qua Potete anche non essere super precise, tanto non ci si fa caso Comunque guardando il video ci sarà una parte chiusa e una parte aperta La parte chiusa andate a fare un nodino ma se la stola è un tessuto tanto grande prendete tranquillamente un elastico, funziona lo stesso Quindi fate un altro cappiolino, nodino, quello che sia dall'altra parte e a questo punto andate a rigirare la stola in modo che i nodi siano all'interno, ok? Questo è il quarto passaggio Andate tranquillamente a questo punto ad infilare la fantastica mantellina E questo qui ragazze è il risultato Commentate qui sotto e ditemi se questa idea vi è piaciuta Ciao ciao e alla prossima!